Musica Amici di Volonbrite, buongiorno a tutti Siamo qui oggi a Piacere d'Arme con Karim, responsabile di laboratorio Street Art Buongiorno Buongiorno Cos'è che è stata fatta oggi? Allora, praticamente questi laboratori hanno l'intento di far cimentare i ragazzi giovanissimi con questa tecnica pittorica che è parecchio difficile bisogna apprendere fin da subito l'importanza e la legalità di questa tecnica che molto spesso viene accomunata al vandalismo e quindi ha una doppia finalità questi laboratori oltre a simulare la creatività dei ragazzi, a tirare fuori le idee e cimentarsi in questa tecnica c'è anche appunto questo aspetto molto importante dell'educare all'opera pubblica Questa cosa? Quando è che ci sarà di nuovo? Abbiamo un calendario, ci sono una serie di appuntamenti con dei ragazzi che gireranno ciclicamente e il prossimo appuntamento, adesso l'ho segnato in agenda, non me lo ricordo perfettamente però durante la settimana saranno tipo tre incontri, ci sono diversi pannelli quindi io farò una specie di riunione dove riuscirò a far emergere le idee dei ragazzi e man mano svilupperemo i soggetti, li coloriamo insieme Quanto dura questo laboratorio? Dura un paio di settimane la lunghezza degli incontri poi sarà di circa due ore ad incontro, un'ora e mezza, due ore Grazie, grazie di essere stato con noi, ciao